Ciao amici di YouTube, questo video sarà in italiano ma se volete potete selezionare i sottotitoli in inglese. Siamo in viaggio verso Vignola dove suonerò per il Silent Music Festival e questo video sarà una sorta di backstage di questi giorni di concerti. Enjoy the show! Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Paolo Borghi, siamo presi per oggi. Ehi Paolo Borghi, Michele Moi, Giulio, Silent Sardinia Festival. Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!